salutiamo coloro che attraverso i social ci seguono siamo nella chiesa cristiana evangelica assemblee di dio in italia di parma per il nostro culto e vogliamo insieme rivolgerci alla scrittura la parola di dio e leggere dal vangelo di luca capitolo 9 versetto 57 possa dio benedire la lettura e la meditazione della sua parola al nostro cuore mentre camminavano per la via qualcuno disse a gesù io ti seguirò dovunque tu andrai ed egli rispose le volpi hanno delle tane gli uccelli del cielo dei nidi ma il figliuolo dell'uomo non ha dove posare il capo e un altro disse seguimi ed egli rispose permettimi prima di andare a seppellire mio padre ma gesù gli disse lascia i morti seppellire i loro morti ma tu va ad annunciare il regno di dio un altro ancora gli disse ti seguirò signore ma permettimi prima di salutare quelli di casa mia ma gesù gli disse nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi riguardi indietro è adatto al regno di dio se dovessi dare un titolo alla meditazione di questa mattina lo intitolerei discepoli di cristo gesù in queste poche parole con queste poche parole di questo episodio di una situazione accaduta con gesù presente i suoi discepoli e altre persone che potremmo forse definire anche come dei mancati discepoli possiamo considerare chiaramente quelle che sono le caratteristiche che dio richiede a chi desidera e vuole essere o meglio diventare ed essere un suo discepolo intanto possiamo notare dove vediamo questa scena in quale contesto in quale situazione c'è la possibilità di diventare discepoli di gesù è scritto mentre camminavano per la via ecco che gesù camminava per la via e delle persone incontrarono gesù gesù desidera incontrarti desidera salvarti desidera renderti un suo discepolo ecco perché gesù è sceso dal cielo matteo introduce questo episodio con il prefisso gesù disse passiamo all'altra riva e prima di passare all'altra riva troviamo queste persone che vengono anche riportate qui da luca oltre che da matteo come dicevo dove abbiamo dei discepoli forse mancati passiamo all'altra riva perché è un po così la vita cristiana noi passiamo dal tempo all'eternità e possiamo fare questo soltanto per mezzo di gesù allora è importante passare all'altra riva insieme a gesù è importante il cammino terreno insieme a gesù e questo è possibile soltanto se noi siamo discepoli di gesù non è per le nostre capacità non è per le nostre opere non è per la nostra bravura ma unicamente se noi abbiamo fatto di gesù il nostro salvatore e signore per diventare suoi discepoli essere discepoli di gesù è una scelta si diventa discepoli di gesù per una decisione che noi dobbiamo prendere sapete non si diventa discepoli di gesù perché siamo nati in una famiglia evangelica o come dicono alcuni non capisco questo siamo nati in chiesa allora si diventa discepoli di gesù non perché siamo nati in una famiglia evangelica non perché fin da bambini ci hanno portato al culto mia mamma mi dice sempre che io sono nato di lunedì e il la domenica già ero al culto al primo culto quindi la prima domenica disponibile già ero al culto che mi ha portato al al culto e grazie a dio da allora e non me ne sono più allontanata e si diventa discepoli di gesù per nuova nascita non per nascita per nuova nascita per chi è nato dall'alto d'acqua e di spirito e questo richiede una scelta una decisione e considerando queste tre persone non sappiamo il nome non sappiamo niente di queste persone ma tre persone che sono potenzialmente dei discepoli di potenzialmente diventare discepoli di gesù però dovevano fare delle scelte delle scelte precise la prima scelta per poter diventare discepoli di gesù deve essere una scelta ponderata dice il versetto 57 mentre camminavano per la via qualcuno gli disse notate che qui abbiamo qualcuno come dicevo poco fa che non sappiamo il suo nome ma che prese l'iniziativa fu questa persona a rivolgersi a gesù fu questa persona a manifestare il desiderio la volontà se vogliamo il bisogno di diventare discepolo di gesù e disse io ti seguirò dovunque tu andrai però gesù non si lasciò impressionare da questa affermazione così importante per chi è maestro come gesù e ricerca dei discepoli dei seguaci un'affermazione del genere potrebbe incoraggiare ma non gesù perché gesù capì immediatamente che questa decisione non era una decisione ponderata infatti gesù gli disse le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo allora questa decisione di voler essere discepolo di gesù non fu non era purtroppo una decisione ponderata era una decisione emotiva impulsiva dovuta al momento la decisione di diventare discepoli di gesù non deve essere figlia di un momento di uno stato d'animo di una considerazione superficiale in un'occasione particolare che io e voi facciamo ma deve essere ponderata deve essere valutata deve essere considerata gesù parlando altrove dice se uno vuole essere mio discepolo rinunci a se stesso prenda la sua croce e mi segua e ancora dirà chi avrà amato padre madre fratello sorella e così via più di me non è degno di me perché la scelta deve essere ponderata una scelta ponderata dalle parole di gesù possiamo considerare innanzitutto che non deve essere come dicevo emotiva non deve essere impulsiva ma deve essere fatta con la consapevolezza che gesù non ci dà garanzie umane non ci dà garanzie terrene non è che gesù ci dice vuoi essere un mio discepolo bene se tu vuoi diventare un mio seguace sappi che da oggi finiranno i tuoi problemi finiranno i tuoi guai finiranno le tue difficoltà le persone ti aiuteranno le persone ti onoreranno non avrai più malattie non avrai più problemi economici non avrai più tempeste nella tua vita allora vuoi essere un mio discepolo o rifacendoci a quei quattromila mancati discepoli i quali dopo aver mangiato i pani i pesci gesù disse apertamente voi mi seguite perché avete mangiato voi mi seguite per le cose terrene non dovete essere discepoli miei perché io sono il cristo io sono il figlio di dio io sono il signore della gloria e non voglio seguaci che mi seguono per interessi terreni e materiali volete seguirmi voi mi dovete seguire rinunciando a tutto le condizioni le detta gesù le presenza presenta gesù perché lui è il maestro lui è il signore lui è il salvatore allora gesù ti dice questa mattina vuoi essere un mio discepolo bene io non ti garantirò nulla da un punto di vista terreno e materiale anzi una cosa te la dico che se vuoi essere mio discepolo avrai tribolazione la tua vita da un punto di vista umano sarà caratterizzata dalla sofferenza sarà caratterizzata dalla prova sarà caratterizzata dalle ingiustizie sarà caratterizzata dalle cattiverie umane e da tante privazioni sei disposto se io e voi fratelli e sorelle abbiamo deciso di essere discepoli di gesù quando arriva un momento di difficoltà di prova dove subiamo delle cattiverie dove subiamo delle ingiustizie dove da un punto di di vista umano abbiamo tante difficoltà non possiamo reclamare i nostri diritti a gesù perché gesù non ci ha mai garantito cose buone da un punto di vista materiale nel mondo avrete tribolazioni beati voi qui c'è qualcosa di interessante il prefisso di questa affermazione di gesù è molto interessante beati vuol dire appagati gioiosi felici soddisfatti beati voi quando vi perseguiteranno e quando diranno contro di voi ogni sorta di male parola vuoi seguire gesù sappi che da un punto di vista terreno egli non ti fa garanzie non ti dà garanzie fatemi esprimere in questo modo che è un linguaggio molto umano che tutti comprensiamo vuoi firmare questa mattina il contratto per essere un discepolo di gesù allora se vuoi firmare questo contratto gesù ti dice semplicemente se tu vuoi essere un mio discepolo devi rinunciare a te stesso mi devi seguire devi prendere la tua croce e mi devi seguire io non ti faccio nessuna garanzia se non io sarò con te fino alla fine dell'età presente che non è poco e a noi discepoli di gesù ci basta gesù notate cosa dice le volpi hanno delle tane gli uccelli del cielo hanno dei nidi ma se voi volete essere miei discepoli sappiate che il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo attenzione fratelli non dice che io e voi non abbiamo dove posare il capo perché io e voi l'abbiamo dove posare il capo vi ricordate giacobbe quella sera dove posò il capo su quella pietra che scelse come capezzale vi ricordate quella notte particolare nel cenacolo dove posò il capo giovanni è lì che noi vogliamo posare il capo sul petto di gesù ci basti questo notate in quel contesto giacobbe da un punto di vista umano non aveva più nulla però aveva dove poggiare il capo fratelli e sorelle ci basti sapere che il nostro maestro sarà con noi ci basti sapere che possiamo poggiare il nostro capo la nostra vita su gesù non ci interessano più le cose terrene le cose umane le cose materiali una scelta ponderata ma la scelta di seguire gesù deve essere anche una scelta incondizionata non possiamo mettere delle condizioni ti seguirò se ti seguirò ma ti seguirò però no ti seguirò punto notate chi mise delle condizioni versetto 59 e un altro disse qui è gesù che prende l'iniziativa perché gesù incoraggia gesù accoglie tutti coloro che vogliono essere suoi discepoli e gli presenta che la responsabilità che questo comporta che deve essere una scelta ponderata ma gesù stimola anche incoraggia anche a un altro gli disse seguimi ed egli rispose permettimi prima di andare a seppellire mio padre ma gesù ma gesù notate come il ma gesù gli disse lascia i morti seppellire i loro morti ma tu vada annunciare il regno di dio una scelta incondizionata seguimi quando gesù chiamò i dodici discepoli per costituirli come apostoli disse semplicemente seguimi pietro giacomo giovanni e anche l'attività e anche l'attività levi lasciò la gabella e così via seguimi un invito solo un imperativo e in quel seguimi gesù dice tutto seguire gesù vuol dire smettere di seguire se stessi smette di smettere di rincorrere i propri segni e sogni smettere di andare dietro ai propri progetti ma seguire soltanto lui seguimi fratelli e sorelle gesù questa mattina ci dice seguimi e seguire lui vuol dire rinunciare a ogni cosa per rimanere vicino a gesù quest'uomo sembra quasi fare una richiesta lecita e gesù sembra quasi molto duro nei confronti di questa persona alla richiesta permettimi prima di andare a seppellire mio padre attenzione fratelli e sorelle non è che quest'uomo aveva perso il padre gesù lo stava chiamando e quest'uomo disse aspetta almeno che faccio il funerale di mio padre poi quando avrò fatto il funerale i giorni del lutto saranno finiti io ti seguirò non stava dicendo questo anche perché se gli fosse morto il padre non era in giro per le strade quello che disse quest'uomo era semplice allora io mio padre forse era un uomo anziano forse era una ho delle responsabilità quando mio padre sarà morto che sarò libero da questi vincoli familiari allora ti seguirò Gesù dice no non è così che funziona perché quando poi tuo padre sarà morto ci saranno i tuoi figli poi ci saranno i tuoi nipoti e poi ci saranno altre cose e io adesso voglio seguire Gesù ma prima devo finire gli studi io voglio seguire Gesù ma prima mi devo sistemare con il lavoro con un lavoro più tranquillo io voglio seguire Gesù ma prima mi voglio sposare vuoi mettere seguire Gesù con un marito che vuole fare la volontà di Dio è diverso è meglio io voglio seguire Gesù ma sono ancora con i miei genitori quando avrò trovato una ragazza che fa per me una moglie allora sì poi arriva il matrimonio io voglio seguire Gesù però insomma magari con dei figli è meglio perché insomma almeno posso dire come Gesù è quanto a me alla casa mia serviremo il Signore poi arrivano i figli beh i figli sono piccoli quando sono grandi poi i figli crescono quando arrivano nell'età dell'adolescenza c'è tanto lavoro quando sarà passata l'età dell'adolescenza poi seguirò i miei figli seguirò il Signore poi i figli si sposano poi arrivano i nipoti poi finisce l'età comincia ad avanzare allora adesso prima devo andare in pensione perché quando poi sarò andato in pensione servirò il Signore poi si va in pensione eh ma ci sono i nipotini ci sono cose che ho sempre tenuto nel cassetto e non ho mai fatto quando poi farò prima queste poi servirò il Signore e adesso comincia ad avere qualche difficoltà poi quando mi ristabilirò da questa malattia e adesso quando poi ci portano al cimitero e se potessimo parlare al becchino gli diremmo adesso posso servire il Signore oggi oggi il domani non ci appartiene oggi la scelta di seguire Gesù deve essere incondizionata non siamo noi a mettere le condizioni fratelli e sorelle perdonatemi della frase forte che dico e cruda la dico prima di tutto a me se io e voi diciamo a Dio Signore io ti voglio seguire ma aspetta che però sapete come reagisce il Signore adesso questo la interpreto io ma come ti permetti tu di dire a me come mi devi seguire le regole le do io le condizioni le metto io perché ricordati tu sei uomo io sono Dio fratelli e sorelle non siamo noi quando io e voi mettiamo certe condizioni sapete cosa fa Dio ride ride di noi ma come è possibile ma guarda un po' la creatura che dice al creatore perché fai così mi sto riferendo alle parole dell'apostolo Paolo ai Romani ma vi ricordate quando Naman andò dal profeta intanto il profeta neanche lo accolse e già lì fece arrabbiare Amman intanto la serva bellissima figura ma non è il temo era una discepola di Gesù è quella ragazza altro che e che discepola del Signore disse in Israele c'è un profeta Naman dove va? dal re ma ti aveva detto di andare dal profeta tu vai dal re già poi quando il profeta gli manda a dire senti ti devi gettare sette volte nel Giordano ma io pensavo che io credevo che ma e così via meno male che quei servi gli danno un buon consiglio senti siamo venuti fino a qua per favore fai quello che ti è stato detto almeno provaci fratelli e sorelle non siamo io e voi a mettere le condizioni perché con Dio le condizioni le mette lui tutte fatemi usare un'altra espressione se io e voi vogliamo diventare discepoli di Gesù dobbiamo firmare un contratto in bianco noi firmiamo sì voglio essere discepolo di Gesù poi il Signore mette le regole e quando nel corso della vita arriveranno certe situazioni noi non possiamo dire Signore perché c'è questo perché c'è quest'altro perché mi è capitato questo perché il Signore ci dirà tu sei un mio discepolo e tu devi fare quello che dico io sembra forte quello che sto dicendo forse lo è anche ma è quello che Gesù dice però chi si è avventurato nel senso più bello del termine ad essere seguace di Gesù ha fatto delle scoperte meravigliose che bello è un'avventura meravigliosa con Gesù perché Gesù ci sorprende sempre in bene ovviamente riserva delle sorprese delle risposte degli interventi qualcosa di meraviglioso alleluia e infine la scelta deve essere prioritaria prioritaria un altro ancora gli disse ti seguirò Signore ma permettimi prima di salutare quelli di casa mia Gesù gli disse nessuno che abbia messo mano all'aratro e poi riguardi indietro è adatto al regno di Dio permettimi di salutare quelli di casa mia so già dove va la vostra mente a Eliseo ed Elia quando Elia chiamò Eliseo Eliseo chiese di poter salutare quelli di casa sua qui era diverso quando voi andate a comprare qualcosa se siete come me un po' insicuri un po' indecisi quando comprate qualcosa infatti mia moglie viene sempre con me quando devo comprare qualcosa da vestire se no faccio degli acquisti sbagliati se voi andate nel classico negozietto quello dove vi servono dove vi presentano le cose alla fine comprate quello che non volete perché vi ridanno se invece andiamo al supermercato o quei magazzini lì magari se qualcosa non ci convince non c'è nessuno che ci convince ad acquistarlo e allora quando vado in un negozio e qualcosa non mi convince non ho il coraggio di dire no non mi piace perché mi sembra un po' allora magari dico ci penso e poi al limite ritorno il negoziante sa che quello è un no molto diplomatico bene questo discepolo stava un po' dicendo così a Gesù sì Gesù io voglio essere un tuo discepolo però insomma adesso non è che faccio una richiesta come ha fatto quello che mi è venuto prima vuole aspettare il funerale del padre io non ti chiedo il funerale dei miei genitori ti chiedo un semplice semplice salutino poi del resto Gesù se Eliseo è stato accontentato da Elia tu che sei ancora più buono di Elia fammi salutare i miei genitori e Gesù gli dice chi ha messo mano alla rato e riguarda indietro non è adatto per il regno di Dio perché Eliseo a differenza di questo discepolo aveva già deciso di seguire Elia poi doveva semplicemente salutare i genitori non tanto dare un bacio a papà e mamma lui doveva bruciare il suo aratro perché Eliseo aveva messo mano all'aratro di Dio e non voleva più guardare indietro notate il nesso aratro di Eliseo aratro di qui che dice Gesù allora la scelta deve essere una scelta prioritaria prima Gesù prima il regno di Dio prima la volontà di Dio prima Gesù onorato prima Gesù servito poi viene tutto il resto poi nella scala dei valori ci possiamo mettere tutto quello che vogliamo ma prima il Signore sapete fratelli e sorelle Gesù se è il Signore deve avere il primato nella nostra vita Gesù non è il Signore di chi lo mette al secondo posto non è il Signore di chi lo mette al secondo posto ma io metto prima poi il Signore insomma non lo metto all'ultimo posto lo metto al secondo Gesù dice no se tu mi metti al secondo posto perché prima viene la tua vita prima viene la tua famiglia prima vengono i tuoi affetti prima vengono i tuoi interessi vado avanti prima viene la tua salute prima vengono i tuoi progetti prima vengono i tuoi programmi e poi vengo io no grazie io discepoli così non ne ho bisogno chi vuole essere un mio discepolo e allora Signore molti sono chiamati sì molti chiamati ma pochi gli eletti perché il gregge del Signore non è un grande gregge è un piccolo gregge è un piccolo gregge i seguaci di Gesù erano 4.000 in un'occasione di uomini più le donne e i bambini da una stima per difetto si presume almeno 10.000 persone che stavano seguendo Gesù e Gesù quando vide queste immaginate fratelli e soreli 10.000 persone che seguivano Gesù una folla oceanica a un certo punto quando Gesù dice sentite voi mi seguite non perché perché avete mangiato addirittura lo volevano far re Gesù deve essere il re del nostro cuore non dell'aspetto economico e materiale poi se ne andarono e rimasero i dodici immaginate questi dodici così impauriti dicevo qua oggi è andata ancora male Gesù si rivolge ai dodici sentite ve ne volete andare anche voi perché fratelli e sorelle non è Gesù che ha bisogno di discepoli sono i discepoli che hanno bisogno di Gesù il Signore Gesù esiste stavo dicendo vive sarebbe stato improprio esiste ugualmente senza me e senza voi non gli cambia niente ma a me e a voi la nostra vita senza Gesù non ha senso non ha senso seguire Gesù una scelta prioritaria prima di ogni cosa Gesù onorato conosciuto glorificato metti Gesù al primo posto e tu vedrai quanto sarà benedetta la tua vita queste sono le condizioni Gesù le richiede le impone a ciascuno di noi la scelta però concludo chi decide di seguire Gesù come accennavo poco fa si ritroverà a vivere una vita da un punto di vista terrena non ci interessa passa ma da un punto di vista spirituale la presenza del Signore con noi la parola di Dio che ci guida lo Spirito Santo che ci consola il Padre Celeste che manifesta il suo amore dove realizziamo i beni spirituali le ricchezze della grazia e dove io e voi ci troveremo un giorno alla presenza di Dio insieme a Gesù il Signore e Salvatore fratelli e sorelle Gesù ha fatto sul serio quando ha deciso di lasciare il cielo la gloria l'onore per venire sulla terra per lasciarsi umiliare per lasciarsi maltrattare per lasciarsi uccidere lo ha fatto sul serio e chi vuole essere discepolo di Gesù deve farlo seriamente perché con Dio non si scherza egli non scherza seguire Gesù è la cosa più importante più seria più onorevole più bella più gratificante che ci possa essere per un uomo e una donna alziamoci rivolgiamoci al Signore grazie a tutti